The Survivalists La particolarità di questo gioco esce il 9 di ottobre, non so se lo vedrete prima o dopo, non c'è embargo quindi potremmo vederlo anche prima, però vediamo un attimino che cosa ho pianificato, perché ci sono anche altri giochi interessantissimi questi giorni. E costa 24,99, la versione Deluxe 32, non costa poco, lo potete giocare fino a 4 persone, con 3 amici, infatti sto contrattando con Mirko di Gameplay Channel per fare una partita in co-op. E' un gioco davvero molto particolare, perché lo cominciamo dall'inizio, lo esploreremo all'inizio, nella scheda del profilo possiamo fare il nostro personaggino, quindi lo chiamiamo subito Indy. Mi piace così, voglio metterli senza capelli, ma con la barba da sopravvissuto, la maglia così non modifico nulla. Pensate che qua potete addirittura ammaestrare le scimmie, potete trovare mappe del tesoro, potete trovare dei templi, che con gli amici potete esplorare per trovare un artefatto. Come dice anche la pagina Steam, potrete esporre la vostra arma leggendaria nel capanno, oppure portarvela dietro. Qua abbiamo, vabbè, la nostra personalizzazione, le varie chiavi per la fuga e il glossario, perché qua potete vedere che tutto quello che le scimmie ammaestrate possono fare. Potete farle aiutare a costruire, a combattere, consegnare, raccogliere a un inventario, quindi potete usare una scimmia per trasportare una cassa con dentro diverse cose. Nota del diario, va bene, col tasto tab apriamo il menu dove possiamo andare a leggere la nostra nota del diario. Il gioco è in italiano, la sto giocando con una versione, diciamo, preview, quindi è il gioco già in versione, diciamo, di lancio. Qua possiamo con il tasto destro trasferire o con il tasto maiuscolo mouse sinistro trasferire la pila o maiuscolo più tasto sinistro del mouse trasferire tutto. Quindi possiamo, in questo caso abbiamo preso delle bacche che possiamo usare per mangiare, abbiamo delle corde, abbiamo dei sassi che possiamo usare come armi. Adesso, cosa scomoda è che lo premeresca ogni volta. Allora, abbiamo, c'è un negozio misterioso sull'isola. Questo era scritto. Possiamo raccogliere le cose. La grafica ricorda molto quella di Escapist 2. Allora, adesso col tasto Q possiamo vedere le scimmie, possiamo dargli gli ordini ma non ne abbiamo le scimmie. Col tasto R possiamo vedere un progetto per collocare la terra delle strutture che al momento non possediamo, possediamo solo un, possiamo costruire un cuscino comodo. Possiamo mettere qui. Possiamo. Albero progetti, elimina progetto, colloca progetto. Non me lo fai mettere lì? Sì? Ok, perfetto. Qui. Ok. Dopo aver posizionato un progetto per raggiungere gli oggetti, prendo le ricette un po' come Avel and Earth. Sì, ma non ho niente da poterci piazzare qua. Cioè devo, vabbè. Col tasto C possiamo andare a creare a mano degli oggetti. In questo caso possiamo creare l'ascia primitiva. Quindi facciamo, ci servono dei sassi, due sassi. Li prendiamo, li abbiamo prena fatti. Abbiamo creato un'ascia primitiva. Possiamo equipaggiarla con il punto alla virgola. Selezionare l'ascia primitiva col punto alla virgola. Poi si può giocare anche tranquillamente col pad. Vedete che ci si muove in realtà con il punto alla virgola, cioè il punto o la virgola o la rotella del mouse più semplicemente. In questo caso ho preso l'ascia, la sto usando. Vediamo se posso fare qualcosa qua. Ok, ho buttato giù un albero. Accolgo le nocci di cocco con lo spazio. Non è, diciamo, immediatissimo perché bisogna premere appunto lo spazio, però vabbè, va bene. Diamo un'occhiata magari qua intorno se c'è qualcosa perché potete... Intanto si sta già consumando la roccia, quindi vediamo se ci servirà un piccone. Poi potremo spostarci su varie isole perché potremmo farla zattera. Quindi prendo altri sassi così nell'eventualità in cui si dovesse rompere la mia ascia primitiva. Andiamo lì. Con il tasto tab vorrei vedere puntine a gogo. Ok, i luoghi possiamo vederli qua dalla mappa e mettere le puntine, quindi mettere gli appunti di quello che possediamo. Di quello, scusate, che troviamo. No, 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 non voglio... Ho buttato per sbaglio premendo la X. Ho buttato per sbaglio quello. Correre, maiuscolo sinistro per correre. Rotolare, lasciare oggetti, Z... Ah, ok, ok, Z, ho premuto Z e ho buttato a terra un oggetto. Questo ci sarà molto utile nel caso in cui dovessimo giocare con amici e cedergli un oggetto. Allora, intanto, io sto abbattendo con spazio. Sarebbe stato meglio raccoglierli così passandoci sopra, però va bene. Liberiamo la scimmia. Quindi abbiamo già una scimmia iniziale. Le tue amiche scimmie possono fare tutto quello che fai tu. Assegna loro dei ruoli. Nella modalità imitazione scimmiesca, tenendo il primo momento Q. Ok. Hai ricevuto la prima mappa del tesoro. Le mappe del tesoro vengono riportate nella scheda mappe del tesoro. Trova il luogo per... Ok. Salve! Buongiorno. Gli do... Ah, gli ho dato questo. Ok, gli ho dato quello, ma in realtà me ne servono anch'io. Anche per me. Allora, è fragile. Qua possiamo fare... Abbiamo sbloccato delle cose. Abbiamo fatto il fascio di paglia. Il cuscino comodo. Mi serve la paglia. Devo fare la fascia di paglia con le erbe. La corda. No, voglio fare questo. Perché mi potrebbe essere molto utile. Ora, con la Q. Per convincere una scimmia a imitare le tue azioni, passa la modalità imitazione scimmiesca. Posiziona il cursore su una scimmia, premia E per far sì che ti osservi. Lascia le modalità imitazione scimmiesca per farle studiare e imparare quello che fai. Prova a colpire un albero mentre una scimmia ti osserva per farle spaccare della linea. Molto bene. Andiamo. Vieni, vieni scimmia. Mi segui? Cioè, è bellissima sta cosa. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. Adesso ti faccio vedere. Ti faccio vedere. Spacchi un po' di alberi. Così che qua ce ne sono tanti. Kiki, kiki, kiki. Sì, va bene. Adesso va. Q. Q. Clicca su una scimmia per dargli un ordine. Ok? Insegna. Lancia oggetto. Segui e abbandona. Insegna. Ok. Adesso guarda cosa faccio. Ok, capito? Ok. Brava. Ho creato un mostro. Ho creato un mostro. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Ho riaperto l'inventario lì. Ok. Eh, vabbè, ma ti si romperà prima o poi il... Vabbè. Intanto sto raccogliendo anche delle foglie perché voglio fare quello che... Vabbè, intanto io... Ci sarà... Hai completato una guida per le scimmie. Vabbè, ma basta adesso. Cioè, non mi puoi abbattere tutto quello che trovi. Vabbè, intanto stiamo recuperando un po' di... Un po' di aggettini. No, 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 no. Scusi, signora scimmia. Anche... Anche meno. Anche meno. Scusi, eh. Seguimi. No! Gli ho lanciato l'oggetto! Allora, scusi, scimmia. Mi segua. Ok, basta. Oh, gli ho gettato l'oggetto, quindi devo caricarne un altro. Vabbè, non che mi manchi, ma... Va bene. Allora, adesso, scimmia. Non mi puoi abbattere tutta la vegetazione dell'isola. Perché ovviamente mi serve. Voglio... Vieni, vieni con me. Dai, basta che... Dobbiamo fare attenzione anche a mangiare, credo. Perché dovremmo anche... Allora, prendoci, creo il cuscino... Ah, mi serve la paglia. Facciamo la paglia. Ok. Adesso facciamo il cuscino. Ok. Stai mica apprendendo come fare quella roba. Aggiungi. Ok. Ah, devo fare l'attrezzo multiuso. Sì, sì, ma stai calma tu. Faccio l'attrezzo multiuso. Ok. Così che lo posso usare per costruire. Ok. Ok, il martello mi serve per craftare le cose. Ok, ho fatto. Serve una coperta. La coperta la posso craftare? Sì. La craftiamo subito. Spazio. Sì, ce l'ho la coperta, è qua. Aggiungi. Perfetto. Salva o dormi? Salvo. Perfetto. Vuoi salvare il gioco o andare a dormire? Salva. Salva, salva. Così nemmeno abbiamo la partita, perché se no... Ok. Buongiorno. La scimmia dove è andata? Ok, è qua. Buondì. Salve. Andiamo avanti un pochino a esplorare, no? Possiamo fare una mazza? La facciamo. Nel senso che facciamo qualcosa di costruttivo. Posso picchiare la scimmia? Grazie, grazie, grazie. Ho battuto l'erba con una mazza. Va bene. E in alto vediamo anche il sole. Sta per diventare notte. Abbiamo dormito di... No, non abbiamo dormito, abbiamo solo salvato. Quindi non è andato avanti il giorno. Cos'è questo? Sembra... Uh... La scheda mappa del diario contiene la mappa del mondo. Ah, ok, abbiamo trovato il tesoro, è vero, è vero. Dobbiamo andare a vedere il tesoro. Bellissima. Seleziona un'arma e attacca i nemici. Ok, sì, abbiamo l'arma. Rotolo con questo. Ok, abbiamo preso degli avanzi di carne. È bellissimo tutto questo. Cioè, se lo portano avanti sviluppato bene, diventa veramente uno spettacolo sto gioco. Ok, prendo. Ah, sono pieno però. Scusatevi ma i petali io me ne frego. Anche i reali di pipistrello, insomma. Cosa che posso buttare. Balung... Eh, non posso buttare niente, però... Ricordo di salvare spesso la partita. Dormi in un letto. Sì, perché se si muore, poi finiamo lì. La partita, tecnicamente, si può ospitare in qualsiasi momento per amici. Quindi, vabbè. Tanto... Poi possiamo addirittura dare, come vi dicevo prima, alla scimmia una... Ok. Scusate, mi interrompo. Una cassa da poter portare in mano e poterci dare dell'inventario, diciamo, mobile. Le mie gambe sono così pesanti. Sono stanco? Sì, lo so. Lo so, lo so. Allora, voglio dare un'occhiata alle mappe del tesoro. Perché dovrei avere... Scimmia combatte. Ah, ci danno i dobloni se li facciamo tutte queste quest qui. Ok. No, mappe. Mappe del tesoro. Io sono qua, ma non ho mappe del tesoro. Mi dava qualcosa? No? Vabbè. Vediamo intanto cos'è questo. Cos'è almeno... Ho trovato una notte al diario di insopravvissuto. Andiamo a vedere. Caro diario. Ok, ho sbloccato anche l'obiettivo stimma. Vediamo un po'. Alison Smith. Sono davvero, davvero triste e ho perso quella conferenza. Prima volta che succedeva nel 1217. Non mi interessa neanche più, ma sto a stranotte nel moltissimo. Stranotte a volte tossisco, mi sento stanco, senza motivo. Non stavo così l'ultima volta che abbiamo visitato il call center. Allora, una sfera venusiana. Verranno a salvarmi. Ok, qualcuno che probabilmente a casa non c'è più tornato. Mi sento un po' stanco, dice. Probabilmente è notte, quindi adesso ci torniamo a casa. Abbiamo preso un po' di cose. Qua si può picchiare, ma in realtà... Ah, ok. Sassi. E l'alla di pipistrello non ha lo spazio al momento per... Avanzi di carne. Andiamo, andiamo, andiamo. Magari adesso... Oh, ci attaccano. C'è un'altra scimmia. Scimmie salvati che ti chiederanno di portare loro uno strumento prima di fidarsi di te. Devo lanciargli l'oggetto, ok. Ok, no, devo però... Non ho più la mazza, si è rotta. Ok. Vabbè, ascolta. Scimmia. Lei. Ah, ti lancio questo, guarda. Il livello di fame è mostrato nell'indicatore. Ah, ok. Quando si svuota inizia a mangiare regolarmente. Ok. Quindi si... Va bene. Scusa, tieni. Ah, dai oggetto, ok. Dai oggetto. Scusa, voglio darti questo. Vieni. No, non me lo accetta. Vuoi quel martello? Ah, vuole quello. Ok, la zuppa. La zuppa per seguirmi. Va bene. Va bene. Non va bene perché non ce l'ho. Però, non vedo la fame. Però, dovrei vederla da qui, presumo. No, dov'è che il mio... Ok, qui. No. Però, mi stanno massacrando la scimmia, quindi direi che... Giù le zampe dalla scimmia. Ok, lascia lì la carne, va. Vieni, vieni, vieni. Ti insegnerò anche a combattere. Saremo inseparabili, dire te. Però, intanto, io vado... Allora, facciamo una cosa. Mangio le bacche. Ok, vedete se si sente l'umore che sto mangiando, quindi... Ah, ok. La vita e la fame, ok. Sono due indicatori uno sopra l'altro. Va bene. Allora, dormi. Dormiamo fino al mattino. Dormi e salva i dormi. Ok. Devo trovare qualcosa da mangiare. Ma ho mangiato. Va bene. Allora. Vediamo l'ora del giorno. È già quasi mezzogiorno, quindi... Ah, è la mattina prima. Va bene. Allora, 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 allora. Vediamo. Vediamo le strutture che si possono fare. Ok. Non mi ricordo... Già più il tasto. Ah, la capriola e l'alt. Ok. Cos'è questo? Una mappa del tesoro è stata aggiunta al tuo diario. Ok. Eh... Diamo un'occhiata, allora, alla mappa del tesoro. Al diario. Eh... Che mi confondo sempre. No. Non vedo mappe del tesoro. Ho 100 dubloni. Qua vedete? Eh... Si possono mettere gli indicatori. Ah, devo capire... Mappe del tesoro. Ok. Accampamento grande mistero. Ok. Gemma nella zona. Regione furia. Di pezza cavallone. Potremmo andare ad un'occhiata. E a sapere dov'è. Vabbè. Allora. No. Volevo creare... Eh... Però non mi ricordo più il tasto. Ok. L'area dei progetti. Infatti abbiamo sbloccato delle cose. Un letto leggero. Parete di paglia. Si può iniziare già il pavimento. Si può iniziare... Fuoco da campo. Voglio piazzarlo qui. Ok. Va bene. Perché vorrei iniziare... A cucinare un po' di carne. Dato che ne ho preso un po' dai pipistrelli. Aggiungiamo la legna. Il cibo cucinato dona diversi vantaggi. Alcune ricette saziano di più. Altre ripristiano di più salute. Ok. Il cibo non va mai a male. Quindi non avere paura. Ok. Ok. Questo è... È una buona cosa. Le scimmie possono imitare le tue azioni e utilizzare i banchi di creazione per creare oggetti secondo la ricetta. Metti una scimmia in modalità imitazione e quindi deposito un oggetto. Ah potrei fargli creare... Usare un attrezzo multiuso e su una ricetta per completarla. Ah ok. Ok. Allora. Scimmia. Tu. Inizia in modalità. Insegna. Ok. Gli do una banana. Allora. Scegli ricetta. Facciamo lo spirino. Kebab di carne. Sì la carne che ho è questa. Quindi direi che facciamo questa. Spazio aggiungi. Ma io scusa a sinistra. Crea. Ok. Mi sta apprendendo anche a fare la carne. Il problema è che poi di carne non ne ha. Quindi gliela dovrei dare la carne. Ok. Ha appreso come fare questa cosa. Allora. Io ti butto la carne. Vediamo se la fai. No. Allora facciamo così. Ah no. Gli devo dare il martello forse. Tu. Lancia oggetto. No però scusate. Devo dargli l'oggetto. Questo. Lancia oggetto. Ok. Ah ma non la prende? Ah no. Gli do la carne. La carne è cruda. E dovrebbe andare a farla. Scusate. Così. Tac. Lancia oggetto. Ah no. Devo dirgli cosa deve fare. Ok. Devo farlo ancora. Devo farlo ancora anch'io. Quindi fammi prendere gli oggetti. Ammazza di legno. No. Butto questo. Ok. Voglio farlo ancora. Aggiungi carne. Crea. Sta prendendo lei. Eh sì. Deve ancora vederlo fare. Quindi niente. Devo fare più volte questa azione. Adesso salirà di metà credo. Vediamo. No. Ok. Vabbè. Ho fatto la carne. La mangio. A questo punto. Mangiata. Riprendere anche questo. Ok. Si sono sbloccate altre cose. Tavolo. E forziere piccolo. Il forziere piccolo. Mi piacerebbe farlo immediatamente. E metterlo lì. Ok. Quindi. Così mettiamo dentro un po' di roba. Dove prendere l'attrezzo multiuso. E creo. Sembra davvero molto. Ma molto interessante questo titolo. Sarà un pochino da approfondire. Perché all'inizio si giochicchia così. Poi posso farlo anche trasportare. Ok. Allora. Metti dentro. Con lo shift trascino tutto. Quello che. Quindi mi hanno detto. Non va male. Quindi va bene. Vediamo se abbiamo sbloccato altre cose. Si. Banco di creazione. Fantastico. Banco di creazione. Lo mettiamo lì. E lo andiamo a fare. Ma mi diceva che era abbastanza scomodo come gioco. Ma ci si abitua. Vabbè. Dai. Prendi questo. Crea. Usa oggetto. Spazio oggetto per il certo numero. Ah. Ok. Si. Devo prendere quello che mi serve. Quindi. Apri. Prendo questo. 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 Vediamo cosa mi manca. Mi mancano questi. Che cosa sono? Sassi normali. Quindi prendiamo. No. Sassi ce li ho. Cacchio è quello lì. È una. Scusa. Vediamo un attimo. Che cosa serve. Il blocco di pietra. Eh. Non i sassi. Allora devo fare un utensile apposta. Bacchetta di legno. Creare oggetti vari. Mazza di legno. Boh. Provo a colpire. A percuotere con la mazza di legno. Ste cose. No. Mi danno solo sassi. Beh. Non capisco. Dove devo. Beh. Fammi recuperare altra carne adesso. Anche le ali del pipistrello. Che non so che farmene. Però. Ok. Le deposito le ali. Tanto già che le ho qui. Aveva un'ala sola col pipistrello. Fammi recuperare anche queste. Eh. Quello vuole una. Non so. Un'insalata di frutta. Però non ce l'ho quindi. Una bottiglia. I totem sull'isola non si limitano a parlare. Vogliono fare affari. Porta tutto ciò che i loro cuori di legno possono desiderare. Ti ricompenseranno. Interessante. Vabbè. Intanto sta diventando notte. Sta arrivando un pipistrello di nuovo. Io sono stanchissimo. Quindi direi che me ne vado. Me ne vado a casa. Eh. Mi manca la lastra di pietra. Che non so dove onestamente trovarla. Perché. Io posso attaccare con. L'attrezzo multiuso. No. Perché serve solo per la costruzione. Voglio capire. Se posso usare. Eh. Il. Qualcosa qua per fare. Eh. Palo multiuso. Terraferma in acqua. No. Pavimento. Parete di paglia. Il tavolo. Esporre un oggetto singolo. No. Forziere medio. Ok. No. 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 Non stiamo andando nella direzione giusta. Perché. Per il banco. Mi serve la roccia. La lastra di roccia. E io onestamente. Non lo so. Tu intanto. Come sta andando? Eh. Lo so che. Non mi dai la lastra di. Non saprei neanch'io dove andare a prenderla. La lastra di roccia. Vediamo ma. I sassi. Eh. Boh. Mi informerò. Intanto è già sera. Quindi. Eh. Diciamo che. Per il momento. Salviamo e dormiamo qua. Io spero davvero tanto di aver suscitato la vostra curiosità. Rimango aperto per altri episodi di questo titolo. E soprattutto rimango aperto anche per un eventuale live. O magari un misto tra una live di Gameplay Channel e una partita mia. Eh. In coop. Una. Un video. Insomma. In cooperativa. Dove Mirko mi darà una mano. O io darò una mano a lui. Ragazzi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ovviamente non tiratevi indietro. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.